Ho un debole per la città di Valencia, per cui nel momento in cui ho visto l'emergenza mi sono mobilitato a contattare le persone che conosco lì sul posto e ho chiesto di cosa ci fosse bisogno. Ho donato delle mascherine, dei guanti, del gel sanificante e delle confezioni di latte da parte della nostra azienda. Se io vivessi questa situazione vorrei che qualcuno mi potesse aiutare, quindi è fatto col cuore veramente. Le donazioni arrivano un minuto dopo un minuto, siamo allo stadio di Arezzo, i locali sono stati messi a disposizione dalla società Amaranto. L'iniziativa di raccogliere il materiale per gli alluvionati è di un semplice cittadino, Cristian dell'Avanzato. Un post sui social e gli aretini hanno risposto a tempo di record per inviare quello che serve a Valencia. Ecco, gli aretini hanno risposto quasi a tempo di record perché tu questo appello sui social, sulla pagina 6 di Arezzo, se che spesso viene utilizzata, forse questo è uno dei, come dire, degli utilizzi più nobili, no? Per questo tipo di iniziative, ecco gli aretini hanno risposto velocemente. Assolutamente, stamattina sono arrivato alle 8.59 e già c'erano persone fuori da aspettare e alcune persone sono anche meravigliate del fatto che alle 10.00 già ci fosse un bel po' di materiale sul posto. Oltre all'SS Arezzo volevo ringraziare anche la misericordia di Arezzo che ha messo a disposizione tre volontari, di cui uno è andato via adesso. Volevo ringraziare anche Ombra Security che ha messo a disposizione il suo personale, poi a seconda dei propri impegni ha partecipato chi poteva. Vorrei ringraziare anche tutti quelli che hanno portato quello che potevano in così poco tempo perché la cosa soddisfacente è stata questa, non tanti che abbiano portato il materiale ma che si siano organizzati così velocemente per poter aderire. All'alba del 5 novembre il furgone partirà alla volta della Spagna, tre autisti, il viaggio è lungo e se qualcuno dovesse mettere a disposizione un altro furgone non è esclusa un'altra raccolta. Vediamo quello che riusciamo a raccogliere e quello che riusciamo a portare. Se dovesse avanzare qualcosa sentiremo qualche trasportatore sia disposto a fare un altro viaggio perché fare un altro viaggio da 30 ore è bello impegnativo perché poi siamo tre persone che hanno tutta la loro famiglia, tutto il loro lavoro, per cui diciamo che è un po' inaspettata questa partecipazione. Speravo ci fosse, però avevo anche un po' di timore che non avrebbe funzionato cosa invece che non è andata così. Vogliamo allora lanciare un appello a chi magari fa questo lavoro, a un autista, agli autisti che fanno questo tipo di lavoro e magari hanno anche a disposizione un furgone? Sì, se ci fosse qualcuno che è disposto a fare un altro viaggio da qui a Valencia, insomma ai comuni limitrofi, per portare altro materiale, sicuramente è ben accetto. Insomma potremmo organizzare anche un'altra raccolta volentieri. Grazie a tutti.